Accesso negato. Quel componente non serve per la locomozione. Sopra c'è scritto che è un convertitore di energia. Che ne sai? L'ho studiato per molti giorni e ti dico che serve per controbattere la gravità. Guarda, vedi come si adatta ai moduli 4 e 6? È un modulo di accoppiamento, non di levitazione. Il 4 e il 6 vengono da unità diverse. Non sai se vanno assieme. Invece sì, anche se ora non posso provarlo. Allora, smettila di discutere e torna al lavoro. ... 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 Fai qualcosa! Ok... Vamo a terra! Ma che diavolo hai fatto? Ma che diavolo hai fatto? Minaccia eliminata! Grazie! Accesso negato. Accesso negato. Accesso negato. Accesso negato. Accesso negato. Prendiamolo! Accesso negato. 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 Sì, sì. Ho collegato l'arma a un sistema refrigerante. Stavolta non dovrebbe surriscaldarsi. Tutti indietro! Se funziona, le nostre truppe saranno inarrestabili. Silenzio! Sto dando energia. Via dal bersaglio, Enson. Eccoci. Proteggete gli occhi! Sì! Funziona! È bene! Ehi! Un'arma si sta riscaldando! Penso che il refrigerante non funzioni! Dovremmo spegnerla! Sai, ne ho abbastanza. Ti lamenti sempre troppa energia, scudi insufficienti, il laser è ben dentro i limiti, te lo dico io! Sì! 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 Eh?! Detesto le missioni in trasferta. Soprattutto a vigilare su questi noiosi scienziati. Niente azioni. Medico! Acquita! 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 Acquita!